L'argomento che tratteremo oggi vi potrà sembrare basilare ma vi assicuro che non lo è. Spesso nel mondo degli investimenti le persone si ritrovano con il dubbio del se sia o meno conveniente iniziare ad investire da giovani. Per poter rispondere a questa domanda però vi è la necessità di introdurre due concetti ben distinti, l'interesse semplice e l'interesse composto. L'interesse viene detto semplice quando è proporzionale al capitale e al tempo ovvero gli interessi maturati da un dato capitale nel periodo di tempo considerato non vengono aggiunti al capitale che li ha prodotti e quindi non maturano a loro volta interessi. Invece l'interesse viene detto composto quando invece di essere pagato il riscosso è aggiunto al capitale iniziale che lo ha prodotto. Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo ovvero anche l'interesse produce interesse. Ora per evidenziare ancora di più le differenze tra interesse semplice e composto ragionando in anni per comodità possiamo dire che con l'interesse semplice il primo anno investiamo una cifra, il secondo anno la lasceremo investita e ne investiremo un'altra ma ritireremo l'interesse guadagnato. Il terzo anno idem. Mentre con l'interesse composto il primo anno investiremo una cifra, il secondo anno la lasceremo investita e ne investiremo un'altra però allo stesso tempo avremmo generato anche un interesse che investiremo anche quest'anno. Analogamente il terzo anno avremmo le cifre già investite, queste tre, ne investiremo un'altra. In più sull'anno prima guadagneremo un interesse che reinvestiremo nuovamente. Potete vedere da soli adesso quant'è abissale la differenza tra interesse semplice e interesse composto. Ora utilizzando un sito come questo, in questo caso un sito americano quindi con valuta in dollari, possiamo vedere come con un investimento iniziale di 500 dollari, un'aggiunta mensile di 100 dollari per una durata totale di 10 anni ad un interesse annuale del 10% e con una variazione del 2% su questo interesse, possiamo vedere come il ritorno in questi 10 anni sia di 20.421,78 dollari. Ovviamente in caso di variazione in negativo in positivo di quel 2% possiamo vedere i profitti come cambiano. Per rendere l'esempio ancora più incisivo possiamo ripetere lo stesso calcolo, questa volta con una durata temporale di 40 anni, non più 10 e vediamo come il ritorno potenziale in 40 anni sia di 553.740,69 dollari. Ovviamente anche in questo caso possiamo vedere come una variazione in positivo e negativo del 2% su quel 10% ci sia effettivamente un ritorno minore o maggiore. Possiamo vedere come nel primo caso con un investimento di 12.500 dollari avremmo raggiunto la cifra di 20.421 dollari, mentre nel secondo esempio con un investimento iniziale di 48.500 dollari avremo raggiunto la cifra di 553.740 dollari. Infine per concludere il video ci tengo ad essere trasparenti con voi, per questo voglio dirvi che io non sono un consulente finanziario e tutto ciò che so è frutto della mia esperienza e dei miei studi. Va da sé che prima di effettuare un investimento dovreste studiare caso per caso, fare le vostre opportune osservazioni e di conseguenza assumervi le vostre responsabilità. Per questo video è tutto, vi ricordo di lasciare like se il video vi è stato utile, di commentare in caso di dubbi, domande ed osservazioni e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao a tutti!